E' molto negativo, perché si interviene 20 designer e sembra che nessuno prende l'argento. Ma il problema è che, in questo modo, sembra che se hai ricevuto l'argento da un'azienda, magari l'azienda deve parlare in inglese. Ma sembra che se sei pagato da un'azienda, siccome l'azienda dice questo articolo che non pagano i designer, non pagano rimborsi spieghi, non pagano, capito? Sembra che tu sei una mosca bianca che sono stupidi a pagare, capito? C'è una roba veramente allucinante. L'articolo dice che le compagnie italiane, le compagnie in generale, non solo le compagnie italiane, non pagano più i designer. No, i designer non prendono i soldi e loro. E' proprio giusto. No, non è vero. E' una profession. E quindi Stefano ha detto che se una company ti pagna, tu hai una serie di falsità, di cose. Si sembra che sei l'unico strano, sei l'unico che è stato pagato, non è vero. Cioè, Costantin Gherci non guadagna niente perché non ha mai fatto un cazzo che si vende. No, c'è un design come Costantin Gherci, che è ideologico, quindi non prende i nostri prodotti, ovviamente. Stefano, sei un panorama professionale, sei uno dei più successivi. Ma non superstar, io sono un professionista. No, il problema è che, per essere professionista, devi combattere molto. Perché oggi ci sono molti designer che lavorano per libero. E anche grandi designer che lavorano per libero. E' una vera pittura. Ok, io penso, personalmente, che conoscono molti designer, Stefano, Giovannoni, più o meno, che, ok, sicuramente il talento, il capacità, di un solo designer è molto, molto importante. E poi ci sono altri fattori che sono molto importanti, come avere la possibilità di trovare qualcuno, che è in questo modo, e che ci ha dato l'opportunità di lavorare insieme. Quindi, qualcuno è più fortunato che altri, e è parte della vita. Ok? È il stesso livello di talento, al principio. E poi, con Stefano, che hai bisogno di lavorare e lavorare molto, per mantenere la tua posizione, per aumentare la tua posizione, no? E questo, non è facile, perché lavoriamo in un contesto che non è professionale. I grandi nomi lavorano senza essere professionale. Io lavoravo con loro, con la stessa compagnia, e ho problemi. Perché mi chiedono, perché vogliono i soldi che nessuno chiede? Inoltre, oggi, ho chiesto due dei migliori designer italiani, Stefano e Mark Sadler, che sono tutti successi, e che non è vero. Nessuno paga, perché io ti devo pagare. Ecco, capito? L'ultima domanda. È l'Italia, per un designer, un buon paese per essere? Ancora? Ancora. Allora, l'Italia è un paese particolare perché non c'è nessun paese nel mondo con tantissime compagnia. Non ho parlato di design compagnia, ma significa compagnia produttiva ogni tipo di materiale, ogni tipo di cose. Quindi, non c'è nessun paese con tantissime compagnia concentrata in un piccolo paese. e, ovviamente, abbiamo molti tradizioni, perché questo tipo di compagnia è sul mercato durante 100 anni, molte volte. Quindi, hanno esperienza. E perché quando parliamo di design, parliamo di Italia? Perché Italia è il paese che ha ricevuto un tipo di cultural status. Questo è il motivo per cui il modello in Italia è completamente diverso dal modello americano e la compagnia in Italia riconosce il designer come autore. In Italia ogni designer signa il prodotto mentre in USA è molto raro non una attitudine che mettere il nome di autore di prodotto. In USA il modello è più relato alla patente. E ad esempio il principale designer di una grande americana è un ingegnero che ha molte patente e diventa il migliorno di una company come Freeham o una americana e è totalmente diverso di lavorare perché se lavorate in l'italiano business non partecipate su successo del prodotto se si eserete un prodotto si eserete un prodotto eserete prodotto è interessante nel nostro contesto dire che tutti designer non recebano non 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 vero ma c'è l'italia in l'italia in l'italia è molto forte perché abbiamo mili di designer ma non non molto clever quindi tutti lavorano in furniture è saturato che lavorano in furniture e lavorano in furniture quando eravamo era importante creare che un designer creare la sua lingua per essere visibile ed oggi tutti i nuovi designer lavorano in una piccola e in una piccola e chiamano produrare qualcosa e produrano fonte perché non investiamo non un problema ma se mettere 1000 designer e 1000 compagni creare con obietà non 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 esistirà perché non costa moni produrare perché creare un prodotto costa 1000 euro ma il mercato è prodotto con obietà senza sensi in questo momento siamo prodotti e designer concentrati in questo segmento che è il più primitivo perché il design è tutto perché concentrati nel prodotto di milano ma il prodotto è una 1000 segment per esempio si vede al super mercato prodotti 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 Non è in forniture, so take care, take care. Non vieni a Italia con un nuovo design di una chair. Tutti gli italiani lavorano solo in forniture. Perché è più facile, come Stefano ha detto. Perché abbiamo mille di compagni, e se ti chiedi a 10 dollari, uno di loro... Potremmo un piccolo tavolo o qualcosa, ma non costa nulla. Con questo tipo di... Ma c'è molta energia disperse. C'è molta energia in questo tipo di lavoro. Allora, volevo chiedere se potete andare in Italia a lavorare in design, dove potete andare? O, suggerite, dove pensano che i designi sono? Lo che è successo... In ultimi 20 anni, è che i designi che diventano successivi diventano successivi perché creano qualcosa di straordinario. che diventano lo visibili. Perché oggi, se hai designato qualcosa nuovo e diverso e veramente straordinario, hai la possibilità di pubblicare ovunque. quindi abbiamo i media che creano immediatamente ma... se hai la possibilità se hai la possibilità di designare un nuovo obiettio che... 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 tol... che... che... eh... che... che... dove